Abbiamo sentito quel piede, Roberto, grazie. Comunque, guarda che il tuo versario è stato un grosso muro, quindi vuol dire che la scopa è in fattione e c'è, scusate. Beh, qua ci teniamo a fare bene perché siamo per mia, sicuramente, sicuramente, sì. C'era qualcuno in curva prima che ti ha esaltato. Bene, a dire, ti aspetto una bella doccia perché sulle hai bisogno, no? Eh sì.